Bene, ci eravamo lasciati qua. Il gatto è in un grosso sacco. Hai preso a calci il suo zaino e gliel'hai rotto la giacca nuova. Sì, era grasso, si correva più lentamente degli altri. Ma questa non è la ragione per cui essere crudeli. Che cosa? Come lo conosci? Non l'ho toccato. E rispiettata con lui. Lui le ha dichiarato il suo amore e tu l'hai deriso. L'ha raccontata tutta la scuola. Dopo questo Greg, la vita tranquilla di Greg è finita. Non ha nulla a che fare con questo, è solo la sua copia. Stupido. Certo. C'era un Greg il gatto ed ora c'è un gatto in un sacco. Ah ah ah, non è divertente? C'è un'altra parola e chiamò la polizia. Forza, chiama! Sai com'è stato tagliato il gatto? Con un coltello da cucina. Le impronte sono anche tue. Capiranno che l'hai ucciso tu. Che cosa stai? Che cosa stai? Non mi credi, vai in cucina e guarda. Lungo il manico di metallo per la carne. Non c'è lì. Stai vedendo? Beh, l'hai trovato? Che cosa significa tutto questo? Stai scherzando, vero? Che cosa? Non c'è da nessuna parte? Aiaiaiaiai, quella è sfortuna. Comunque voglio farti vedere qualcos'altro. Vai in bagno. Guarda che nel secchio della biancheria. Vedi? Sono cose tue, giusto? La madonna, però se lo istighi pure. Sì. Ecco la mia cameretta, la mia camicetta, ci sono anche i miei jeans. Perché sono sparchi di sangue? È il sangue del gatto. Non ricordi? Cosa, il gatto? No, no. Assassina. Basta. Qual è il tuo trucco? Chi sei? Lo hai ucciso? No, 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 no. Taci. A proposito, qual è il tuo nome? Non me l'hai ancora detto. E infatti non l'abbiamo ancora detto neanche noi. Non l'abbiamo capito. Lasciami, lasciami stare. Alexander, giusto? Questo è il tuo nome? Hai fatto una fotografia prima di ucciderlo. Selfie col coltello prima dello smembramento del gatto. Quanto dolcezza. E allora chi sono io? Io non desisto proprio, Alexandra. Io sono te. Stai impazzendo? Sei tu che chiamavi il gatto e lui ti ha rifiutato. Oh, comunque raga, non ho ancora capito perché ha smesso di scrivere tizia lì, Alexandra, Alexandra, non si è capito niente. D'è riso davanti a tutta la scuola. Non è stato affatto grasso. È un bel ragazzo. Ha lavorato come animatore in un'azienda in vacanze. E tu devi iniziare a fare la tua parte. Alex Sacco. Ricordi? Sì, eh? Ora io sto per impazzire. Bene, non è niente. La polizia sta già arrivando? Sono stata io. Siamo stati noi. Loro hanno trovato il corpo con un coltello e le tue impronte. Perché adesso noi amavamo la primavera. La primavera sta già è più pericolosa per noi. Per chi di noi? Per i pazienti psichiatrici. Più uno tra i pezzi. Tra i pazzi. Qualcuno ha bossato la porta, senti? Dipende da noi, apri. Ok. Ah, è finita così. Ok.